Da un lato la musica, dall'altro l'ambiente con un dibattito pubblico sulla crisi energetica. È stata la Casa dell'Energia di Arezzo ad ospitare la due giorni. La nostra sfida è adesso, non possiamo aspettare quelle centrali nucleari, non possiamo aspettare quelle tecnologie che impiegano troppo tempo per essere realizzate. Quindi bisogna andare avanti con l'energia rinnovabile. Noi siamo degli sponsor per l'energia verde, ovviamente a livello cittadino, a livello provinciale e a livello regionale. Si è partiti con una giornata dedicata alle possibili soluzioni che la pubblica amministrazione potrebbe applicare per aumentare l'efficienza energetica degli edifici pubblici esistenti. Diverse invece le tematiche al centro della seconda giornata, tra questa e anche quella relativa alle energie verdi. Questo giorno lo dedichiamo più al comparto industriale, più ai nuovi modi di produrre energia verde da fonti rinnovabili, però ovviamente orientate verso le nostre aziende, i nostri siti produttivi e soprattutto guarderemo l'idrogeno, l'idrogeno verde che in qualche modo dovrebbe rappresentare il futuro e cercare di riempire il fabbisogno di gas che noi in questo momento abbiamo una grande penuria. Ad oggi l'unica opportunità che abbiamo per immagazzinare energia è l'idrogeno. L'elettrico sta prendendo campo ma ha ancora molte difficoltà negli accumulatori, l'unico accumulatore di energia che possiamo utilizzare è l'idrogeno. Lì si apre un mondo che apre spazio alla fantasia, ai progetti, alle idee. Noi ne abbiamo, stiamo cercando di metterle in campo da una parte insieme al Comune, su San Zeno e di contro anche presso la sede della Coingas dove si vuol portare avanti i progetti importanti in collaborazione con gli enti di ricerca per iniziare a fare attività sperimentali sul campo.